Sono jamaicana, africana, sono nata a Milana, sono napoletana. Sono jamaicana, africana, sono nata a Milana, sono napoletana. Organizza da noi il tuo buffet per qualsiasi tipo di evento. Pizza Shop, la pizza più buona con soli ingredienti di prima qualità. Old Bakery, il gusto e la qualità giorno a notte. Sono contentissimo, però sono più contento per la squadra perché abbiamo fatto una grande partita con un grande atteggiamento, tutti i 90 minuti e abbiamo portato a casa tre punti alla fine. Sì, abbiamo 20-30 giocatori con grande qualità, è normale che non ci sono tanti spazi per giocare. Tutti vogliono giocare, però il calcio è così, allora devi essere pronto sempre 100% e quando c'è l'occasione a giocare devi dare tutto. L'importante è che giochiamo ogni partita uno per l'altro e che siamo una grande squadra. Tutto il resto è meno importante. D'altronde abbiamo ammirato anche, non solo oggi, le tue qualità tecniche oltre che fisiche. Poi descrivici questo gol, un bellissimo gol tra l'altro. Sì, grazie. Non lo so, sono contentissimo, non posso trovare parole per questa sera, però l'unica cosa che è importante è che abbiamo portato a casa tre punti. Hai una dedica particolare per questo gol? No, niente. Sono contentissimo per il gol e questo gol per Sergio, il nostro preparatore. Questa promozione, arrivata con due giornate d'anticipo, dimostrazione che comunque il Crutone, anche dopo il lockdown, ha ripreso con una cavalcata impressionante e 13 risultati utili consecutivi con quello di oggi e il record per il Crutone in Serie B. Sì, come ho detto prima, abbiamo tanta qualità in nostro gruppo, grandissimi giocatori, allora siamo una squadra forte, abbiamo dimostrato questo ogni partita e quando giochi con il cuore è normale che porti tutti i risultati a casa.